Ok ragazzi, ascoltatemi. Il mio nome è Gabri Costa. Statemi a sentire. In questo Crash Bandicoot siamo all'interno del castello, ma è buio. E siccome questo livello si intitola Lights Out, io vi consiglio di rompere le casse con Acquaco e ogni volta che lo fate Acquaco diventa luminoso e vi illumina il percorso buio. Ma devo darvi anche una brutta notizia. Ascoltatemi. In questo livello bisogna rompere 15 casse per vincere la Gemma Viola, che è quella speciale senza morire. Ma c'è la piattaforma Gemma Gialla. Ecco il problema. La piattaforma Gemma Gialla non è attiva perché la Gemma Gialla non l'abbiamo presa. Vi ho detto che la Gemma Gialla dovete vincerla nel livello The Lab. Ma vi piace questo gioco? Dovete dirmi se vi piaceva in versione originale o vi piace di più in versione rimasterizzato con un remake. Non fatevi colpire per nessun motivo perché altrimenti perdete Acquaco. Ecco, vedete, la piattaforma Gemma Gialla non è attiva. Non abbiamo preso la Gemma Gialla. È un peccato non vincere la Gemma Viola in questo livello rompendo 15 casse. Quando vi vengono i topi vicino a voi, spingeteli o la vostra giravolta. Bene, il mio video finisce qui. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, come sempre, come al solito. Io sono un youtuber. Non scordatevi Costanza Fims, lo trovate qui sotto in descrizione, tanto c'è un link. Andate a vedere il video che ha fatto mio fratello. Seguite sia lui che me. Che io. Perché io sono Gabriel Osta. Sempre dovete essere iscritti. Se siete nuovi, fatelo pure. Grazie.